Destiny è un gioco che sta sorprendendo di anno in anno di console e console, Destiny 2 torna sempre. Destiny ragazzi è un titolo uscito nel 2017 e conta all'attivo ormai davvero tantissimi DLC, è presente su praticamente qualsiasi console e, indovinate un po', il 10 novembre 2020 arriverà sulle console next gen, ma non arriverà come semplice remastered, arriverà con nuovi contenuti, un nuovo DLC, nuove espansioni, nuove mappe, nuovi operatori, nuovi eroi, nuove armature, nuove armi. Signori, stiamo per parlare di Destiny 2 Beyond Light, un titolo che al suo interno porta davvero tantissimi miglioramenti per questo titolo che passa dalla current gen alla next gen. Se volete scoprire che cosa ha questo titolo, che cosa Bungie ha pensato per voi, appunto per questo importantissimo passaggio, beh, gustatevi questo video, ah, e se vi è piaciuto lasciate come sempre un piccolo like, grazie mille a tutti. Iniziamo subito con un'aggiunta dai cicciosa ragazzi, non parliamo subito di grafica ma binsì parliamo subito di contenuti, gameplay e nuovi incredibili eroi da poter utilizzare. Abbiamo il Titan, abbiamo il Warlock, abbiamo l'Hunter. Sono tre nuovi classi che abbiamo a disposizione, sono tre nuovi eroi con nuove incredibili abilità, tra cui appunto una meccanica bellissima che è quella del Frozen, del ghiaccio ragazzi, che è una meccanica che cintrerà su tutto questo DLC e che pian piano andremo a esplorare. Quello che vi voglio dire è che tutti questi nuovi operatori, beh, saranno disponibili con nuove incredibili abilità, nuove incredibili armi, che Bungie ragazzi non ha ancora rivelato del tutto, e anche nuove armature. Questo vuol dire che c'è ancora grinding, questo vuol dire che ci sono ancora nuove armature, questo vuol dire che ci sono nuove incredibili avventure da vivere in questo videogioco per far alzare, livellare e potenziare il vostro personaggio. E tutti questi personaggi di questo DLC, chiamato Beyond Light, possiedono delle abilità che potremmo definirla, far parte, del gruppo Frozen. E infatti il mondo di gioco, questa volta di Destiny 2, ci porta su Europa, un mondo ghiacciato. Ma non è un semplice mondo ghiacciato dove ragazzi scende neve e vedrete bianco. No, il ghiaccio lo domina e il ghiaccio è un vostro importante alleato in questo gameplay. Infatti ci sono tantissime abilità che andranno a mobilizzare, a fare danno appunto ai nemici fronte a voi con appunto queste scaglie di ghiaccio. Queste scaglie di ghiaccio ragazzi che abbiamo già visto nel gameplay e che devo dire dal punto di vista grafico sono davvero stupende sulle console next gen. Ma andiamo con calma e passiamo al prossimo punto. Ebbene sì, dobbiamo parlare di grafica perché se parliamo di titoli next gen è allora la cosa più importante ragazzi, sono la risoluzione. Sono i frame per second e il ray tracing. E in un mondo ghiacciato ragazzi, beh ovviamente il colpo d'occhio va sul ghiaccio, sugli effetti di cristallo, gli effetti di luce, luci e ombre. E ovviamente dell'ambiente circostante per cui andiamo subito a analizzare. Risoluzione del gioco ragazzi, 4K. Bungie si è portata verso i 60 frame per second. Stiamo parlando di una risoluzione ragazzi che dovrebbe essere fissa sempre 4K. E dei frame per second che dovrebbero sempre puntare ai 60 frame per second. Ed effettivamente su questo punto Benji ha detto di aver raggiunto ottimi risultati. E ci credo bene ragazzi, le nuove console sono davvero potentissime. Le nuove console caricano ad una velocità incredibile. All'interno del titolo è stato inserito il vault che dopo andrò a spiegarvi. All'interno del titolo ragazzi si sono persi molti giga ma è aumentata la qualità generale. percepita delle texture e ovviamente anche del mondo di gioco. Però tutto questo ragazzi porta anche un piccolo man. E cioè il ray tracing. Questa fantastica tecnica che dovrebbe portare luci e ombre in maniera dinamica completamente generata in quel preciso momento. Beh, in questo titolo non sarà presente. Vi posso però dire che su PlayStation 5 Xbox Series X sarà presente il FOV. E che cos'è il FOV slider ragazzi? Beh, l'introduzione essenzialmente della possibilità di modificare l'ampiezza del campo visivo. Una caratteristica che su PC è presente da un po' di anni e che alcuni sviluppatori hanno iniziato a mettere nei titoli da ormai qualche tempo. Ma sulle console ragazzi questa opzione non era mai esistita. Più aumenterete il FOV, ovvero l'ampiezza del campo visivo, più ovviamente andrete a perdere in frame per second. E questo ovviamente va a ricadere sulla fluidità. Per quanto riguarda il ray tracing vi ho già detto, attualmente non sarà presente al day one. Ma considerando tutte le migliorie grafiche, considerando la texture, considerando il FOV slider, beh, diciamo che in ray tracing non lo percepirete più di tanto come perdita. Perché dal punto di vista grafico, i chicchi di ghiaccio, il mondo ghiacciato, il feeling delle armature, lo sparo, il mondo di gioco, beh, è notevolmente migliorato. Punto numero 3. All'interno di Destiny 2 Beyond Light c'è solamente questo piccolo mondo. No ragazzi, gli sviluppatori hanno voluto fare, se così possiamo dire, con questa DLC portare anche una ventata di pulizia. Hanno passato lo straccio su quei tantissimi giga che pesava Destiny 2 su PlayStation 4, Xbox Series X. Ragazzi, vi ricordo che erano oltre 120 GB, hanno passato lo straccio, ok? E hanno creato il Destiny Content Vault. Il Vault, ragazzi, è una sorta di cassaforte, un mondo unico dove essenzialmente sono stati messi tutti i DLC del passato. Sono stati tolti alcune modalità che non venivano più utilizzate, alcune mappe che non venivano più utilizzate, alcune armature che non venivano più utilizzate, ma sono stati lasciati appunto tutti i contenuti che sono venuti fuori durante gli anni, come ad esempio i Rinnegati, come ad esempio Shadow Keep e tanti altri ancora. Beh, insomma, amici, lo troverete all'interno di questo Vault. Ma in questa cassaforte, ragazzi, non sono state semplicemente appoggiate delle mappe vecchie, ok? Di Destiny 1 oppure appunto dei DLC che vi ho appena elencato. Oh no, ragazzi, le mappe, se le giocherete su PlayStation 5 e Xbox Serie X, sono anche state leggermente riviste dal punto di vista delle texture. Questo, come abbiamo visto nel punto precedente, vi darà la possibilità di poter rigiocare tutte le mappe di Destiny 2 che avete amato in modalità, se così possiamo dire, più bella per gli occhi. Perché indubbiamente, ragazzi, Destiny 2 in 4K a 60fps è davvero un bello spettacolo. Punto numero 4. Quanto dobbiamo sborsare, ragazzi, per avere appunto Destiny 2, tutti questi DLC e anche il DLC Beyond Light su PlayStation 5 e Xbox Serie X? Ve lo dico io, costo assolutissimamente zero. Se voi avete Destiny 2 con tutti i DLC che sono usciti, beh, comprate semplicemente Destiny 2 Beyond Light su PlayStation 5 oppure, appunto, Xbox Serie X? E voilà, ragazzi, potrete tranquillamente fare lo Smart Delivery. Xbox l'aveva già detto, ma anche adesso Sony lo dice chiaro e tondo. Non dovrete ricomprare Destiny 2. Tutto quello che avete fatto, tutti i vostri salvataggi, tutti i vostri DLC sono presenti nelle console next-gen. Riviste? Rivisitate. Unica pecca? Dovrete tirare giù all'incirca 70 giga di contenuto, ma a differenza dei 120 della current gen, diciamo che, come avete capito, è stato fatto un bel colpo di spugna. Ah sì, altra cosa importante. Esiste il crossplay, ma attenzione, il crossplay solamente tra lo stesso genere, la stessa famiglia di macchine. Quindi esiste il crossplay tra PlayStation 4 e PlayStation 5, esiste il crossplay tra Xbox One e Xbox Serie X, e naturalmente la controparte PC, ma se volevate un full crossplay, sappiate che arriverà solamente nel 2021. Anche, ragazzi, per quanto riguarda Google Stadia, beh, il DLC è atteso, e anche in quel caso non vi aspettate il crossplay con le altre due console. Per tutto il resto, ragazzi, Destiny è praticamente disponibile su qualsiasi console voi desideriate. Essenzialmente, ragazzi, le news sono finite qui, ma insomma, che news vi ho regalato? Davvero tantissime. Abbiamo parlato dei tre nuovi operatori, delle nuove incredibili abilità, di questa nuova incredibile abilità chiamata Frozen, delle nuove armi, delle nuove armature, dei nuovi mondi, del volto con all'interno tutto quello che abbiamo fatto e comprato negli scorsi Destiny e tutti i DLC. Abbiamo visto le migliorie, abbiamo visto che il passaggio tra la current gen e la next gen è praticamente gratuita. Abbiamo visto di come, ragazzi, il titolo, anche dal punto di vista grafico, sia, a dir poco, meraviglioso. E per ultimo, ve lo devo dire, c'è pure il comparto gameplay. Ragazzi, indubbiamente le console next gen porteranno una vendata di freschezza. L'abbiamo visto dal punto di vista grafico, lo sappiamo che i caricamenti saranno velocissimi, anche per via della diminuzione del peso di Destiny 2, ma vi posso anche dire che dal punto di vista del feeling, grazie a questo nuovo incredibile joystick di PlayStation 5, grazie a quel fantastico joystick made in Microsoft, ragazzi, che sicuramente sarà all'altezza della quasi perfezione che ci ha abituato, appunto, Xbox, io dico che il titolo in sé per sé ha davvero tanti importanti cambiamenti. Io dico che un titolo del genere, ragazzi, importante nel passaggio tra la current gen e la next gen, io dico che se avessimo tanti titoli che continuano per anni e anni a regalarci emozioni, contenuti forti, grandi mappe, una giocabilità, ragazzi, davvero ampia, illimitata di quasi 20-30 ore ad un prezzo risicato di un DLC, io dico che la next gen parte davvero benissimo. E senza alcun dubbio, ragazzi, le news che vi ho dato oggi e tutte le notizie, beh, ci fanno ben sperare che il cambiamento tra la current gen e la next gen sia meno drastico del previsto, ma molto più morbido e soprattutto molto bello e apprezzato per tutti noi videogiocatori che vogliamo continuare la storia di Destiny 2. Ed è così, amici, che abbiamo finito anche questo video, davvero carichissimo per questo sparatutto che si rinnova in tre anni, ragazzi, è ancora qui a farci compagnia. E voi cosa fate? Lo comprerete? Non lo comprerete? Per le console next gen? Beh, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo mega video. Ciao!